buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv oggi è mercoledì 21 giugno 2023 oltre a una buona giornata vi auguro un buon inizio di estate ebbene comincia la buona stagione oggi il tempo si mantirà buono ancora per alcuni giorni poi ci saranno alcune perturbazioni ovviamente non debbano mancare vediamo subito qual è l'almanacco del giorno e qual è il santo che si festeggia nella giornata di oggi san luigi gonzaga un santo molto noto quindi faccio subito gli auguri a tutti i luigi e della nobile famiglia dei gonzaga visse nel xvi secolo entrò nella compagnia di gesù era di famiglia nobile la nobile famiglia dei gonzaga ma lui condusse una vita illuminata dedita alla prighiera e alle opere di carità purtroppo fu una vita breve perché morì a 24 anni mentre portava aiuto agli appestati era andato a roma appunto dove era scoppiata la peste ma anche lui contrasse il morbo e morì appunto all'età di 24 anni san luigi gonzaga vediamo le previsioni del tempo eccole nella grafica vediamo che i cieli si mantengono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest sud ovest al pomeriggio tesi da est sud est il mare è quasi calmo le temperature si aggirano tra i 24 e 30 gradi insomma siamo veramente con una temperatura piuttosto alta e su questo cosa facciamo chiediamo conferma a nostro amico marco il concessionario di bagnalda di ponte sasso marco ci senti buongiorno ecco ti buongiorno ebbene temperature dai 24 ai 30 gradi siamo veramente in piena estate anche se siamo all'inizio della stagione direi che era ora sinceramente dopo un tempo un po così così adesso non allargiamoci più di tanto perché tanto venerdì notte dovrebbe ripiovere qualcosa dovrebbe fare un leggero temporale domani sabato un po di vento e poi si torna col bel tempo senti nei giorni scorsi abbiamo visto nelle nostre coste una tromba d'aria che si è elevata dal mare sono momenti un po particolari quelli sono fenomeni che si svolgono non in maniera molto spessa persone insomma ci sono bisogna stare attenti a queste cose vero molto attenti infatti noi concessionari quando vediamo queste colonne di aria e acqua ci prende un ansia indifferente perché abbiamo tutto fuori dove passa spazza via tutto ecco introdotto questa cosa per parlare brevemente brevissimamente perché abbiamo poco spazio questa mattina della sicurezza la sicurezza sulle spiagge è uno dei servizi fondamentali che i concessionari offrono ai bagnanti soccorso per quanto riguarda difficoltà di chi si trova in acqua ma anche chi ha un malore magari per l'insolazione insomma ecco il servizio della sicurezza credo che sia uno dei primi servizi che voi assicurate vero sì decisamente sì molti di noi fanno il corso anche per il BLS ci insegnano di tutto di più facciamolo corsi di aggiornamento per dare la sicurezza maggiore a tutti i nostri clienti avete anche anzi vorrei dire una cosa vorrei dire una cosa sarebbe da dare un premio ai bagnini ragazzi che hanno 17 18 anni che salvano le vite ai turisti mettendo a rischio la loro vita perciò sarebbe da dare un premio proprio a fine stagione a questi ragazzi che fanno una cosa meravigliosa benissimo sosterremo questa iniziativa grazie marco scusami il tempo breve ma oggi abbiamo molta carne al fuoco buona giornata buona giornata a tutti buon estate bene dicevo che abbiamo molta carne al fuoco perché questa mattina dobbiamo iniziare da una giornata particolare per tanti ragazzi della nostra provincia ovvero è il giorno degli esami un giorno particolare che il resto del carlino evidenzia in prima pagina maturità e col sorriso in titola il giornale oggi la prima prova i pronostici svevo e per quanto riguarda il tema di italiano intelligenza artificiale e la guerra in ucraina sono i temi che gli studenti si aspettano per quanto riguarda l'esame di stato e vediamo anche l'articolo all'interno del giornale in terza pagina maturità il gran giorno è arrivato il tema il pronostico è su svevo poi intelligenza artificiale guerra oggi la prima prova dell'esame di stato 2.991 gli studenti della provincia che si cimenteranno con questa prova significativa della loro vita perché l'esame di maturità è una prova che lascia il segno leopardi è poco quotato non escludiamo pirandello hanno detto alcuni ragazzi ieri sera il brindisi bene augurante per scaricare un po la tensione e noi andiamo a vedere che aria tira qual è l'atmosfera a pesaro dove c'è il nostro corrispondente marco marco ci senti ancora il collegamento deve essere attuato comunque a sentire alcuni ragazzi per esempio giovanni lodovici della classe quinta dell'informatica dell'itis mattei e sofia e sofia farneti della quinta del liceo scientifico marconi e loro dicono non è leopardi l'autore in pole position nei pronostici per la prima prova lo scritto di italiano previsto oggi con inizio alle ore 8 e 30 per le nostre 152 classi sono abbiamo detto 2.991 esattamente i maturandi che si stanno cimentando con questa prova ebbene le previsioni di solito qualche volta vengono azzeccate di solito vengono azzeccate perché poi questi sono i temi che si preparano durante l'anno scolastico ma ecco marco lo vediamo in video marco hai già visto qualche studente che si sta avvicinando a scuola buongiorno massimo no è ancora molto presto ci troviamo qui al campus di pesaro dove anche qui ovviamente andranno in scena andrà in scena la prima prova di italiano per quanto riguarda l'esame di maturità 20 23 in questo momento ci troviamo all'esterno del bramante genga ancora deserto ma possiamo intravedere già la prima disposizione se il nostro operatore inquadra l'ingresso della scuola possiamo vedere la disposizione dei banchi in questa sala qui avverrà appunto la prima prova dell'esame di maturità lo ricordiamo per tutti i maturandi che ci stanno ascoltando e stanno facendo colazione in questo momento con noi si partirà appunto alle 8 e 30 avranno un tempo massimo di 6 ore e potranno iniziare a consegnare la loro prova terminata a partire dalla terza ora in in poi ricordiamo anche le varie tipologie ci saranno ben tre tipologie di esame per un totale di sette tracce avranno a disposizione l'analisi del testo un testo argomentativo e poi un tema di attualità è il primo grande esame della loro vita quindi insomma è una giornata molto importante e ricordiamo che a questa in questo esame prenderanno parte bene 13 mila alunni marchigiani nel prossimo collegamento proveremo ad ascoltare insomma alcuni studenti che si riferanno qui al campus per affrontare appunto la prima prova a te massimo bene allora ci sentiamo prima del termine della rassegna stampa per vedere se riesci a trovare qualche qualcuno che ci dica le sue sensazioni soprattutto le sue emozioni quelle che ovviamente noi condivideremo perché ognuno di noi ha superato anche questa prova grazie marco a sentisi ci sentiremo più tardi allora continuiamo la nostra rassegna stampa a partire dal corriere adriatico sulla pagina di fano il corriere ci annuncia l'evento della giornata ovvero l'inizio del festival passaggi passaggi da colazione a mezzanotte ovvero un'intera giornata gremita veramente di tanti appuntamenti a partire da quello che si svolge alle 9 e 30 questa mattina al bonbon al lido di fano e poi tutti quelli che si prolungheranno per tutta la giornata fino alle 23 dove sarà antonella viola la dottoressa nota per le partecipazioni televisive che terrà una conferenza nella chiesa di san francesco nei luoghi più suggestivi appunto della città tutto è pronto per la pacifica invasione di passaggi festival si comincia a colazione si finisce al scoccare della mezzanotte rimbalzando dal mare al centro attraverso diversi luoghi della rassegna sono molti palcoscenici che ospiteranno appunto gli incontri del festival passaggi si sarà il pincio ci sarà il monastero delle benedettine la chiesa di san francesco poi altri luoghi dal centro al mare veramente tutta la città sarà interessata sarà coinvolta da questo grande festival che ha assunto veramente una notorietà nazionale rassegna al via ma l'inaugurazione slitta a domani ci sarà oggi comunque l'anteprima dell'opera di zamagni sulla democrazia ci saranno poi tanti tanti personaggi noti che si avvicenderanno sul palco di piazza 20 settembre oggi occupata dal mercato comunque voglio dire ci saranno tante tante iniziative che animeranno cinque giorni appunto di giugno vediamo una di queste a cui il corriere adriatico dedica attenzione l'abbiamo fatto anche noi ieri sera nel nostro telegiornale santiago il libro scritto attraverso i piedi c'è differenza dice l'articolista che è Andrea Amaduzzi c'è differenza tra un libro scritto con i piedi e un libro scritto attraverso i piedi è veramente questo è un libro dove i piedi sono protagonista sono i piedi di un giornalista Luciano Muggia che ha percorso pensate cinque volte l'itinerario che va da fa da dai Pirenei a Santiago di Compostella 900 chilometri con tante tappe 30 chilometri al giorno con tutte le avversità le fatiche che una camminata del genere può provocare può sostenere un libro interessante che dimostra la forza di carattere la determinazione anche la fiducia per portare a termine un'impresa che qualche volta è anche superiore alle proprie possibilità perché c'è tanta tanta tentazione di smettere quando arriva la fatica la fatica insostenibile quando arrivano i temporali quando arrivano le difficoltà che credono di essere che si pensa siano insurmontabili in realtà poi ci si riesce a arrivare al traguardo finale quello della grande cattedrale di Santiago di Compostella Mille firme per le primarie Mascherin scuote l'alleanza un articolo di Politica che pubblica oggi il Corriere Adriatico in seguito ad una conferenza stampa che si è svolta ieri a Fano tenuta dallo stesso Samuele Mascherin, assessore della Giunta Massimo Seri Mascherin scuote un po' il centro-sinistra di fronte a una apatia che sembra avere invaso un po' queste forze alternative alla destra in vista delle prossime elezioni del 2024 qual è la proposta che fa Samuele Mascherin? è quella di indire le primarie affinché siano protagonisti cittadini ad indicare i candidati a proporre i temi per il prossimo quinquennio amministrativo di Fano e non si decidano i candidati in un chiuso di una stanza fatto da poche persone come fu fatto nel 2004 quando allora al centro-sinistra perse l'amministrazione comunale e perse appunto la direttiva del comune di Fano ebbene è una proposta che era stata già lanciata ma non ha suscitato tanto interesse ecco perché ora Samuele Mascherin la rilancia proponendo una raccolta di firme l'obiettivo di raccogliere mille adesioni per indurre appunto i partiti del centro-sinistra a muoversi e a indire queste elezioni veniamo alla cronaca urta il ponte con l'auto e finisce nel canale Albani ha fatto tutto da solo un 33enne ieri che era alla guida di una Jeep Renegade che percorreva via Papiria a Fano di lato al canale Albani è andato a sbattere prima contro i piloni del ponte che attraversa, che sostiene l'autostrada 14 e poi di rimbalzo l'auto è finita nel greto del canale lì per fortuna non c'era l'acqua l'auto si è ammaccata parecchio i danni sono stati gravi l'autista frastornato è rimasto cosciente è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo della macchina poi è stato assistito dal 118 sono intervenuti i carabinieri di Fano anzi i carabinieri di Monteporzio c'era in questo momento la pattuglia in servizio poi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l'uomo è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona non è in pericolo di vita ma comunque le sue condizioni potete pensare ha fatto un volo di oltre tre metri dalla strada al sottostante greto del canale e quindi le sue condizioni sono piuttosto serie veniamo anche ad un altro articolo che riguarda Fano e Urbino focus sull'attività di senologia Veronesi ne ricorda la storia si tratta di Paolo Veronesi che è il figlio del più noto chirurgo Umberto Veronesi ebbene ha incontrato Cesare Magalotti il senologo più produttivo delle marche così viene considerato perché opera sia a Fano che a Urbino e pensate nel 2021 ha assistito a 412 ricoveri di pazienti a Fano e a 157 a Urbino sono venuti anche molti pazienti da fuori provincia perché Magalotti veramente è uno dei professionisti più preparati più seri più esperti che si occupano di questa malattia l'articolo di Cronac a fondo pagina invece ci informa che l'accoltellato si tratta della vittima di un tentato omicidio praticato da un albanese è stato dimesso dall'ospedale però non parla non aiuta le indagini degli inquirenti c'è il riservo della difesa sulle motivazioni della lite violenta giriamo ancora la pagina vediamo che c'è un ritorno sul Corriere Adriatico per quanto riguarda l'aggressione subita da Don Stefano Maltempi il parroco di San Costanzo che è stato malmenato da un automobilista dopo che quest'ultimo è stato redarguito perché attraversava il corso del paese a forte velocità perdono e non presento denuncia ha detto Don Stefano ma in strada c'è una vera barahonda Don Stefano dopo gli attestati di solidarietà ricevuti un po' dappertutto in primis dal sindaco di San Costanzo per l'aggressione dell'automobilista perseguibile per percosse e l'automobilista è stato individuato poi dalle forze dell'ordine si tratta di un anconetano che rischia una multa fino a 309 euro e 6 mesi di reclusioni di reclusioni però sembra che tutto sia perseguibile con una querela di parte che poi non verrà presentata due mesi per rimediare al degrado degli uffici a terra roveresche c'è un out-out da parte del sindaco Sebastianelli altrimenti sarà il comune ad agire invece del proprietario dello stabile che non interviene poi ponendo appunto le spese a carico dello stesso sarà necessario provvedere alla sostituzione degli infissi dei pluviali delle tubature danneggiate che si trovano sulle vie pubbliche e anche alla cancellazione delle scritte sui muri ovvero sono invitati proprietari a tenere in buone condizioni le proprie case invece a Senigallia vediamo che si corre ai ripari per quanto riguarda l'ordine pubblico sulle spiagge spesso oggetto di atti vandalici due guardie armate in spiaggia nei fine settimana dalle 22 alle 5 quindi per tutta la notte ecco l'idea spuntata all'incontro con gli operatori sul servizio di vigilanza da venerdì a domenica in modo particolare per il fine settimana quando le spiagge diciamo così quando il lungomare è più affollato fino a tarda ora perché poi venerdì sabato a domenica sono le giornate dove i giovani magari sono un pochino più allegri sono un pochino più propensi a divertirsi è in corso la raccolta delle adesioni per la vigilanza in spiaggia da attivare a partire dal primo luglio quando sarà a pieno regime anche l'isola pedonale sul lungomare di Senigallia questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico diamo un'occhiata ora al resto del Carlino vediamo la pagina di Fano come apertura e vediamo che si parla di un articolo di cronaca per quanto riguarda una azione effettuata dalle forze dell'ordine sono stati scoperti delle condizioni di lavoro veramente massacranti turni di 12 ore per 6 giorni su 7 è stato denunciato un fornaio per sfruttamento c'è stata combinata una multa un maxi sequestro e denuncia ai danni del titolare del Unipan Bakery Freeze con sede a San Costanzo per i carabinieri del nucleo spettorato del lavoro sottopagava 33 dipendenti stranieri spesso irregolari dal 2016 al 2021 ha risparmiato circa 750 mila euro di salari e di contributi sfruttando il lavoro dei suoi dipendenti per questo è finito nei guai Sasha Goffi titolare di Unipan Bakery Freeze azienda di prodotti da forno con sede a San Costanzo a denunciarlo sono stati alcuni dipendenti per lo più extracomunitari richiedenti asilo con la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno stanchi sta anche di essere pagati molto meno del dovuto alla fine alla fine insomma questa condotta così irregolare non ha affatto pagato il titolare che ora dovrà risarcire i suoi operai di quello che non hanno percepito secondo le indagini dal 2016 al 2021 avrebbe appunto risparmiato 750 mila euro di salari di contributi il che non è poco giriamo la pagina parliamo della movida ne abbiamo parlato anche ieri c'è una risposta oggi dell'amministrazione comunale in merito ad una interrogazione che la Lega si appresta poi a presentare nella prossima seduta del consiglio comunale in merito all'esigenza di porre un equilibrio tra il fare musica la sera magari anche a notte tarda è l'esigenza delle persone di riposare la vacanza ha un duplice aspetto quello di divertirsi e quello di riposare e occorre ovviamente un equilibrio non si può esagerare l'uno nell'altro l'università a questo proposito misurerà i decibel ed è il comune di Fano che ha attribuito alla università di Urbino il compito di misurare i decibel sulle lungomare dove operano soprattutto i bar i ristoranti insomma le attività che fanno musica e offrono una occasione di divertimento si tratta di una convenzione del costo di 10.000 euro sottoscritta dal comune e dall'altra parte che deve essere ancora stipulata e perché diventi operativa ci vorranno almeno due o tre mesi il problema è che quando ci vorranno due o tre mesi ormai l'estate sarà finita si avrebbe dovuto pensarci un pochino prima vediamo che cosa spiega l'assessore all'ambiente Cora Fattori siamo il primo comune delle marche ad aver intrapreso questo percorso tutte le altre amministrazioni continuano a lavorare con l'ARPAM che ha tecnici serie professionali ma il numero così limitato uno per provincia da non assicurare un servizio efficiente e vabbè insomma l'ARPAM non riesce ad arrivare dappertutto e ieri tanta curiosità ha suscitato a Fano un enorme gru che è stata elevata nei pressi del Teatro della Fortuna si tratta dell'installazione di un enorme centrale tecnologica smontata e fatta passare da un lucernario e poi vediamo questo articolo della Caritas famiglie bisognose il frigo lo riempie la parrocchia è un'indagine questa della diocesi sulla povertà alimentare una povertà che sembra aumentare se l'anno scorso solo l'anno scorso anzi le parrocchie della diocesi di Fano hanno speso più di 40.000 euro per far fronte ai bisogni alimentari di 1323 famiglie indigenti che si sono rivolte alla Caritas per un pasto caldo e ora queste esigenze aumentano sempre di più ed ora torniamo a Pesaro torniamo a Pesaro per vedere se Marco è riuscito a così a individuare oddio non vedo nessuno Marco non c'è nessun studente ancora oddio non ti sentiamo sentite sì adesso sì ecco dicevo l'apparenza inganna perché il piazzale in questo momento è vuoto alle mie spalle però effettivamente sono raggiunto due studenti che chiamo qui in impazzatura venite ragazzi non fate timidi come vi chiamate Luca quale classe frequentate la quinta o di vi chiedo allora innanzitutto se questa notte avete recusato o c'è un po' di tensione comunque è la città è normale è normale io ho dormito tu hai dormito abbiamo letto prima che ci saranno diverse tipologie ad esame voi cosa sceglierete avete già un'idea io penso quella di attualità tipologia sì io non lo so perché mi sento a fare ok questo è il primo vostro grande esame come avete lavorato in questo in quest'anno scolastico vi sentite pronti allora diciamo che personalmente mi sono un po' mi sono un po' stato tranquillo quest'anno però potrei far sicuramente meglio tu invece? anche io mi sono un po' adeggiato quest'anno ho lasciato un po' però ormai siamo qui facciamo il meglio che si può l'ultimissima con quanto sperate di terminare questo ciclo di studi? allora innanzitutto speriamo di terminarlo poi per quanto speriamo con 75 a me interessa più che altro finire quindi anche anche un po' però se seppi di 75 meglio perfetto Massimo queste erano le voci dei primissimi studenti che hanno raggiunto qui il campus all'Ipsia-Venelli di Pesaro nel corso della giornata raccoglieremo anche altre emozioni e vi racconteremo il tutto nel telegiornale di questa sera su Fano TV buona giornata e a te la linea Massimo grazie Marco noi facciamo gli auguri a tutti gli studenti ovviamente che sosterranno questa prova consigliandoli di affrontarla con serenità in fin dei conti insomma un tema di italiano se uno riesce a esprimere tutte le proprie sensazioni sinceramente ebbene può essere una prova affrontabile a questo punto chiudiamo la nostra rassegna stampa augurandovi una buona giornata e invitandovi a seguire il TG di Fano TV Occhio alla Notizia questa sera alle 20.30 e domani la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti